Betty Book, vincitrice della categoria 78 kg, l'anno scorso hai fatto seconda, quest'anno prima, cosa pensi di avere avuto in più quest'anno? Sicuramente l'anno scorso ero il primo anno junior, quindi ero più piccola e tutto. Quest'anno tra che l'atmosfera di casa è sempre la migliore, quindi vincere l'Alpe Adria è sempre molto bello. Quali sono gli obiettivi per questa stagione? Prima di tutto fare bene in Italia con i campionati italiani e poi ovviamente lo step successivo che è quello europeo, tenere il mio posto in nazionale.